No, ma sto a un video, mi fai prima di scorto. Eh, ma che discorso? Ah, di scorto! Ragazzi, io... Ti chiedi già nel mio compagno? Qui, al compleanno di Sibona... E' il vostro esame! Al vostro esame! No, 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 no! No, no, no! Al vostro esame! Alle prossime lezioni politiche! Eh, sì, sì. Eh, insomma, eh, l'esame... Al vostro esame! 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 Errico! Al vostro esame! Vai! Vai! E' un saluto a final 4, vai! Ok, a final 4. In punt! In punt! In punt! In punt! Vada!? la mia famiglia è bella l'emozione